...di questa manifestazione fra cui nel 1900... ...l'anno, le faccio un indovinello, qual è l'anno più... ...voi venite con noi! ...l'anno, le faccio un indovinello, qual è l'anno più... ...l'anno, le faccio un indovinello, le faccio un indovinello... ...l'anno, le faccio un indovinello, qual è l'anno più... ...l'anno, le faccio un indovinello... ...l'anno, le faccio un indovinello, qual è l'anno più... ... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Scusi. 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 Eh? Ma io devo andare a lavorare. Scusi. Scusi. Ti chiedi. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 il secondo il secondo il secondo il secondo vieni alla grande si fa al quarto il secondo il secondo il secondo vediamo un po' quasi si è stritto ah ma che c'è fallocchino del numero ah vieni arrivano sul percorso quindi dal tricolone proviamo ancora a spostarci nella ah facciamo come come qua tutto all'arrivo qui giochiamo tra gli arrivi mentre è corto qua quanti ci stanno dai stiamo molto vicini stai molto attento che arriviamo a voi in questo momento forza scattiamo le mani buttiamo tutti gli smartphone proviamo ancora a portare qua gli stanchi con la pancia grazie 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 Alla Cristian! Alla Cristian! Grazie a tutti! Grazie!